eccoci buongiorno a tutti dovreste vedermi e sentirmi datemi il riscontro ok vediamo e ti sentiamo e siamo molto contenti di tutto questo bentornata al freelance camp io sono molto curiosa di ascoltare il tuo talk quindi ora mi eclisso e ti lascio la parola grazie mille sono felicissima di essere di nuovo anch'io allora oggi di cosa parliamo parliamo appunto di problemi di lingua è un tema che mi sta molto a cuore perché io sono una grandissima appassionata di lingue e ne ho fatto un lavoro sono interprete traduttrice insegno lingue straniere ne ho imparate cinque finora sto iniziando la sesta per pura passione in realtà non per farne un lavoro anche di questa sesta ma giusto per farvi capire il mio spirito e l'approccio che ho nel confronto di questo argomento volevo appunto quindi condividere alcuni consigli che ho imparato sul campo direttamente perché ci sono passata anch'io per imparare praticamente qualsiasi qualsiasi lingua quindi iniziamo subito vi dico anche però che questo talk non prevede formule magiche non ho la bacchetta in me non ho scorciatoie per farvi imparare qualsiasi lingua in 24 ore o in un mese o in uno schiacco di vita ma ci vuole comunque sempre un po di tempo un po di impegno soprattutto costanza il tempo peraltro è uno dei fattori principali perché di solito è quello che manca di più ho pensato a chi magari si deve trasferire all'estero anche chi vorrebbe aprirsi a un mercato nuovo e vorrebbe iniziare magari a dialogare un po nella lingua del dei propri clienti per fare questo appunto non c'è bisogno di dedicare sei ore al giorno che è una cosa abbastanza utopistica è molto irreale e finisce poi magari anche per ritorcersi contro a noi stessi perché è difficile riuscire a mantenere un impegno per tanto tempo di così tanto tempo ogni giorno quindi partite da piccoli momenti bastano anche dieci minuti al giorno se non riuscite tutti i giorni anche giorni alternati la cosa che fa veramente la differenza è la costanza per cui non ha senso fare una full immersion di tre ore una volta ogni sei mesi ma piuttosto fate qualcosa tutti i giorni e per fare questo in realtà si riesce tranquillamente a ritagliarsi un po di tempo magari nelle pause magari mentre si mangia magari prima di andare a lavoro un consiglio che io do sempre quello di sfruttare i momenti morti che possono essere quelli magari di trasferimento da casa lavoro o da casa un altro posto se abbiamo un appuntamento all'esterno oppure mentre non so stiamo rassettando mentre stiamo cucinando possiamo ascoltare qualcosa un podcast per esempio o altre trasmissioni oppure possiamo appunto ritagliarci questa piccola pausa di dieci minuti in cui mettiamo il telefono offline nessuno ci disturba e ci concentriamo a fare qualche qualche esercizio la cosa fondamentale secondo me per iniziare ad approcciarsi a una lingua è riuscire a entrare proprio nella sua mentalità dobbiamo immaginarci le lingue come degli universi che funzionano in maniera diverse da tutti gli altri ci sono dei punti di contatto ma specialmente con certe lingue il salto di ragionamento è enorme quindi prendiamo ad esempio l'inglese che è quello forse un po più conosciuto proprio anche come esperienza diretta è una lingua che è diversissima dall'italiano perché ha avuto un'origine che proviene dall'antico germanico che è la lingua che poi ha formato anche il tedesco e già da questo ci dovrebbe dare insomma qualche indicazione sul fatto che non è una lingua proprio così semplice e ha un funzionamento completamente diverso appunto dall'italiano quindi a seconda della lingua nei confronti della quale ci approcciamo dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto e sapere anche l'origine della lingua stessa quindi queste basi veramente molto semplici senza entrare troppo all'interno della linguistica ci può aiutare a capire meglio come funziona e anche accettare meglio il fatto che purtroppo non si può fare una traduzione letterale da dalla nostra lingua all'altra vediamo quindi quelli che possono essere dei consigli un po più pratici che possiamo mettere in pratica sempre questi non sono risolutivi non magari non vanno bene tutti per tutti io vi do alcuni spunti potete prenderne solo alcuni magari nessuno o magari anche tutti quanti e sfruttateli a vostro vantaggio una cosa che mi sono vista funzionare molto bene sia per me che per molti dei studenti che ho che ho seguito è il fatto di tenere un quadernino che può essere un agenda un semplice quaderno dove annotare le parole nuove questo ci permette innanzitutto man mano che scriviamo di memorizzarle e poi anche di averle tutti in un unico posto per poterle poi andare a ripassare quindi possiamo riprendere il quaderno una volta ogni tanto io dico sempre magari prima di andare a letto così se non riusciamo a dormire è quello che proprio ci fa addormentare ed è una cosa che andare a dormire facciamo tutti i giorni quindi abbiamo comunque la costanza quindi qui possiamo andarci a segnare tutte le parole nuove che incontriamo in realtà quelle che magari pensiamo ci possono servire di più perché insomma parole super tecniche magari non non fanno parte di quello che può essere il nostro nostro bisogno quotidiano e appunto le abbiamo tutte in un unico posto in modo da poterle ripassare poter andare a cercarle in caso di bisogno un'altra cosa per soprattutto per il lessico per cercare di ricordarsi le parole che è un altro problema abbastanza frequente quando si si studia una lingua nuova è il fatto di trovare delle associazioni quindi magari trovare delle somiglianze con l'italiano con qualcosa che conosciamo già cercare di trovare magari degli appigli con qualcos'altro faccio sempre l'esempio di uno studente che qualche anno fa abbiamo stavamo vedendo insieme un testo in inglese c'era la parola seagull che non è così tanto comune insomma forse si fa giusto l'elementare quando si fanno gli animali però ecco tra adulti non è un termine conosciutissimo e questa persona mi ha detto ah sì cavoli ma me lo ricordo perché vicino cioè dove andavo io in discoteca da ragazzo c'era un locale che si chiamava blue seagull e seagull è il gabbiano quindi si ricordava che seagull era il gabbiano sono banalità però possono tornare veramente molto utili possiamo veramente legare a quello che viviamo tutti i giorni o esperienze particolari che abbiamo fatto a delle parole che poi ci possono tornare utili un'altra regola che vorrei brevettare quella dell'economia ovvero il fatto che in realtà quando ci approcciamo a studiare una lingua nuova non dobbiamo sapere tutto ma chi se ne frega di tutte le eccezioni più remote ce le fanno studiare a scuola perché è quello il compito della scuola di per sé ma nella lingua di tutti i giorni la cosa che conta davvero è farsi capire nel modo più corretto possibile ok però al tempo stesso senza stare ad impazzire quindi anche a livello sia di grammatica ma anche di lessico cerchiamo di selezionare quelle che sono le informazioni che effettivamente poi ci possono servire nel nostro settore se vogliamo sviluppare magari appunto la lingua solamente per delle trattative a livello lavorativo ovviamente ci studieremo più tutto il lessico e la terminologia che riguarda il nostro settore piuttosto che non lo so quello medico se magari non c'entra assolutamente niente o se al contrario magari la nostra volontà di studiare una lingua è quella di comunicare magari con altre persone quando siamo in viaggio ci studieremo un po' di più quelle parole che ci permettono di fare small talk quindi di fare quattro chiacchiere di parlare del più del meno e anche in questo caso non andremo a studiare del lessico super specifico e di nuovo questo vale anche molto per quanto riguarda le regole quindi non state a impazzire a pensare che dobbiate sapere veramente tutto dipende sempre l'obiettivo che vi ponete se dovete andare a lavorare all'ONU ovviamente non potete permettervi di fare praticamente nessun errore e la vostra lingua dovrà essere perfetta se invece il vostro lavoro appunto siete voi il vostro capo perché siete freelance potete secondo me andare più scialla tranquillamente un'altra cosa che spesso si sottovaluta e che per me invece è importantissima io cerco sempre di stimolarla molto nei miei studenti è quella di utilizzare la logica nel senso che non tutto va imparato a memoria ci sono cose totalmente illogiche in un po in tutte le lingue per cui quelle effettivamente bisogna un po memorizzarle ma ce ne sono anche tante altre anche per esempio del sempre nell'inglese riprendendo una lingua che è abbastanza diffusa diciamo così per cui ci sono tanti ragionamenti che possiamo mettere in atto piuttosto che impararci appunto a memoria una sfilza di regole che magari insomma è già più difficile da riuscire poi a tenere a mente banalmente tutte le modifiche ortografiche che ci sono per esempio per il presente semplice passando dalla da tutte le persone alla terza persona singolare in alcuni casi abbiamo appunto l'aggiunta di una o prima della s ma si tratta di esigenze fonetiche quindi è una questione abbastanza logica se ci pensiamo quindi ci possono essere tanti piccoli elementi che veramente ci possono aiutare appunto ad arrivarci con ragionamento senza bisogno di studiare eccessivamente un altro strumento che secondo me è molto utile e che possiamo appunto rigirare a nostro favore è lo sfruttamento degli hobby cioè abbiamo un argomento che ci piace in particolar modo cerchiamo di imparare la lingua tramite questo argomento faccio un esempio potrebbe essere la cucina ci piace la cucina stiamo studiando il tedesco ok allora guardiamoci programmi di cucina in tedesco ascoltiamo podcast in tedesco che parlano di cucina leggiamo riviste che parlano di cucina dove ci sono delle ricette spiegano quelli che sono i procedimenti possiamo venire a contatto anche con quelli che sono gli ingredienti a volte anche tipici e diversi rispetto a quelli italiani questi sono dei piccoli trucchetti che ci fanno sentire lo studio della lingua un po meno pesante non tutti purtroppo hanno la mia stessa passione quindi capisco che a volte sia una cosa che uno dice no mannaggia ma mi tocca veramente fare sta roba io ho la stessa versione per l'attività fisica quindi posso capire benissimo e faccio sempre questo paragone mi immedesimo moltissimo in chi dall'altra parte appunto non ha questa spiccata passione però al tempo stesso se riusciamo a mettere insieme una cosa che invece ci stimola particolarmente ci interessa secondo me diventa molto più più leggere più fattibile se poi questo hobby combacia o comunque ha dei punti di contatto anche con il nostro lavoro e quindi ci permette poi di imparare cose anche che possono essere utilizzate poi per lavoro tanto meglio una domanda che mi viene fatta spessissimo anzi sono due in realtà una è sulle app e una sui sottotitoli le app vanno bene o non vanno bene anche qua dipende in realtà qual è il nostro obiettivo le app di per sé non insegnano le lingue aiutano nel processo di apprendimento nel senso che molto spesso fanno fare dei giochi di associazione per quanto riguarda le parole i singoli termini oppure delle semplici frasi di uso quotidiano questo sicuramente è un ottimo esercizio può essere anche divertente può essere un po più leggero richiede veramente pochissimo tempo quindi assolutamente sì se se vi piace potete utilizzarle con la consapevolezza però appunto che non è risolutivo cioè non è che fate quell'esercizio dei cinque minuti al giorno sulla app e poi avete imparato la lingua ci va anche un po più altre abilità sicuramente la parte di grammatica vi aiuta ad avere una base solida e poter essere autonomi senza bisogno di arrivare a chissà quale livello però quantomeno per sapervi un po muovere e poi sicuramente c'è la parte anche di parlato e di comunicazione che a seconda di come decidete di impostare il vostro lavoro può essere importante ma ci torniamo tra pochissimo il discorso sottotitoli per me onestamente un grandissimo no nel senso che un conto è rilasciano col contagocce le puntate della nostra serie preferita sono tutte in versione originale per averla sottotitolata in italiano o comunque doppiate in italiano dobbiamo aspettare dei giorni non non possiamo permettercelo perché vogliamo vederla allora ok sottotitoli perché ci permettono di capire se però noi pensiamo di utilizzare i sottotitoli per imparare la lingua e per esercitarci nell'ascolto non ha tanto senso perché il nostro cervello non è stupido cerca di fare la minor fatica possibile quindi se noi tra ascoltare che ho un esercizio molto difficoltoso e leggere che invece è un po più semplice tenderà sempre a leggere e non ascoltare quindi in realtà come se noi leggessimo un testo che possiamo farlo in qualsiasi altra circostanza secondo me l'esercizio migliore da fare è fare farlo con una trasmissione una serie un film che non vogliamo effettivamente sapere come poi si svolgerà magari guardiamo qualcosa che già conosciamo che ci può essere anche di aiuto e concentriamoci solo sull'ascolto su una brevissima porzione di testo quindi magari qualche minuto tre quattro minuti e riascoltiamola più volte cercando di cogliere sempre di più mettiamo i sottotitoli solo in un secondo momento per verificare eventualmente appunto di aver capito bene o se ci sono sfuggite alcune parole tenendo sempre in considerazione anche il fatto che i sottotitoli non sono una trascrizione efficace e soprattutto super attendibile di quello che viene detto nel corso dell'episodio perché appunto hanno delle caratteristiche che sono quelle innanzitutto di essere lette in un tempo prestabilito quindi spesso sono anche un po' riassunte quindi teniamo presente anche questo questo aspetto quindi sottotitoli insomma giusto se li utilizziamo in questo modo altrimenti diventa un altro tipo di esercizio ma non non stimoliamo così appunto la parte orale sempre parlando però di ascolto e parlato ci sono tantissime cose che possiamo fare e sono tutte utilissime direi quasi indispensabili poi per sviluppare anche una buona conoscenza della lingua l'esercizio numero uno che secondo me può funzionare l'ascolto passivo cioè attivare una trasmissione che può essere sia in video o anche solamente in audio mentre facciamo altre cose per le quali non dobbiamo essere troppo concentrati quindi di nuovo come rassettare in casa cucinare o fare insomma altre cose un po più leggere magari se stiamo facendo qualcosa di di manuale che può essere anche un hobby lasciando in sottofondo appunto questo questo parlato in lingua originale questo è molto utile perché negli anni 80 funzionava tantissimo questa cosa che vendevano le cassette del del corso di inglese tu le ascoltavi di notte in teoria il giorno dopo sapevi tutto ora non è esattamente così che funziona ci vuole più tempo di esposizione ovviamente ma il nostro cervello cattura tantissimo quello che sente e facendo questo esercizio per tanto tanto tempo ripeto non bastano due volte nella vita in realtà arriveremo a un punto in cui ci renderemo conto che ci verranno fuori delle espressioni senza bisogno di stare a ragionare dove il soggetto dove il verbo il complemento come coniugo questo dove metto quell'altro ma verranno fuori in automatico perché le abbiamo assimilate secondo più o meno semplifico moltissimo se c'è qualcuno di esperto in sala non mi croce figa è proprio giusto per spiegarlo in maniera il più semplice possibile è un po lo stesso meccanismo che si mette in atto quando da bambini iniziamo a parlare ok quindi senza porci troppe domande su la grammatica su come costruita la frase ma ripetendo una formula che abbiamo sentito tante volte e questo è il punto un po di svolta in cui appunto iniziano a uscire fuori sempre di più queste espressioni che abbiamo via via incamerato è davvero utilissimo pensate banalmente vi sarà capitato di aver memorizzato una qualche pubblicità senza aver quasi mai visto il video cioè solamente averlo sentito perché magari eravate di spalle stavate facendo qualcos'altro mentre andava in tv questo più o meno lo stesso lo stesso meccanismo ok poi un'altra cosa ovviamente è il fatto di parlare è il la task la skill diciamo così che preoccupa di più che crea più problemi io ho avuto tantissimi problemi a parlare iniziare a parlare qualsiasi lingua sia l'inglese il tedesco il francese ero terrorizzata avevo anche degli insegnanti molto molto severi super criticoni non andava mai bene niente e insomma mi sentivo sempre molto giudicata in realtà quello il messaggio che vorrei far passare è proprio quello di sospendiamo il giudizio noi per primi nei confronti di noi stessi nel senso che imparare una lingua straniera è comunque molto faticoso e per ogni piccolo progresso dobbiamo solo che essere insomma fieri e orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto dico anche sempre che anche in italiano ci sbagliamo ogni tanto ci escono fuori delle frasi sgrammaticate o sbagliamo termine è normale quindi perché non possiamo commettere errori in una lingua straniera che stiamo imparando e quindi per la quale non abbiamo la dimestichezza che abbiamo con la nostra lingua madre quindi assolutamente siate indulgenti però al tempo stesso cercate anche di buttarvi i primi passi li potete fare anche da soli quindi parlarvi da soli cinque minuti due minuti mettetevi il timer magari raccontatevi la giornata quello che avete visto al cinema l'ultimo film che avete visto in tv cosa vi è successo di recente inventatevi delle storie non c'è la guardia di finanza a controllare che sia tutto vero quello che dite potete spaziare assolutamente in mezzo alla vostra fantasia ma è molto importante anche farlo ad alta voce e in modo che l'orecchio senta la vostra voce parlare una lingua straniera perché siamo abituati a sentirci parlare in italiano sentire la nostra voce su altre frequenze ci stranisce e crea quella sensazione di cosa sta succedendo chi sta parlando chi è che abita questo corpo e quindi dobbiamo dargli un po di tempo in realtà per abituarsi a questa cosa non preoccupatevi degli errori perché ci saranno ma via via poi li migliorerete e nel momento in cui romperete il ghiaccio parlando da soli quindi appunto superando questa barriera anche di ascolto della vostra voce che parla una lingua straniera poi buttatevi anche con le altre persone se vivete all'estero se vi trasferite all'estero cercate di attaccare bottone o comunque di parlare in ogni occasione che sia far la spesa al ristorante al pub per la strada chiedendo indicazioni anche se magari già le sapete solo per abituarvi anche a sentire parlare la lingua e ripetere certi 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 termini altrimenti se non siete nel paese straniero ma siete ancora in Italia o siete in un altro paese ancora usate alcune piattaforme come i talchi per esempio scritto con la k che permette appunto di fare dei tandem quindi di parlare con persone straniere oppure anche appunto in tandem oppure poi ci sono io ma questo è un altro discorso se invece appunto poi vivete in Italia sfruttate anche i momenti delle vacanze all'estero per parlare questa lingua quindi ogni momento veramente buono potete anche magari intercettare degli stranieri nella vostra città che potrebbero aver bisogno di qualche indicazione potete buttarvi sarà difficile e molto doloroso all'inizio ma praticamente non farete male a nessuno quindi potete appunto lanciarvi in questa esperienza e un po' per concludere diciamo così la mia carellata di consigli ascoltate il più possibile veramente l'ascolto anche se attivo quindi attivo significa che mi metto lì con tutto disattivato sto concentrata quei 5-10 minuti ascoltare una trasmissione dove parla la lingua straniera e cerco di capire il più possibile cerco di fare più ascolti della stessa porzione di audio anche 2-3-4 volte cercando di cogliere sempre di più anche questo è un esercizio veramente utilissimo che pesa tanto non viene quasi mai fatto ma dà veramente dei risultati pazzeschi perché poi quando vi trovate insomma dover comunicare anche la comprensione di quello che sentite è super importante per fare questo potete usare ovviamente un po' di tutto i podcast come vi dicevo prima magari dei vostri argomenti preferiti le news anche se spesso sono hanno un ritmo velocissimo e hanno un po di termini difficili però se vi abituate può essere un ottimo strumento ovviamente film telefilm altre trasmissioni in lingua originale io per iniziare di solito per i miei studenti delle lingue che gestisco con inglese tedesco francese faccio partire da peppa pig so che non è una botta di vita però in realtà ha un lessico molto semplice parla di questioni da tutti i giorni hanno un ritmo non troppo sostenuto una pronuncia pulita per cui si riesce a capire bene anche nella versione tedesca e francese quindi cercate sempre di partire da un livello un po più basso rispetto al vostro per poi progredire mano a mano in modo da non sentirvi troppo frustrati se poi non riuscite effettivamente a comprendere questo direi che sia praticamente tutto come vi dicevo prima appunto vi condivido queste esperienze perché io in primi sono stata studentessa mi sono spaccata la testa sulle lingue non è stato un processo tutto rose e fiori semplicissimo ho avuto dei voti pessimi sono stata rimandata in queste in queste lingue quindi ci è voluto un po e ne sono la prova vivente però in realtà io adesso appunto lavoro con queste lingue e insomma le riesco padroneggiare bene ovviamente per me è una passione per cui io in realtà le esercito tutti i giorni e non mi pesa assolutamente mi pesa molto di più dover uscire andare a fare pilates per esempio però ecco con la costanza e con un po di pazienza ci si può arrivare secondo me tranquillamente a raggiungere questi obiettivi leggevo che c'erano delle domande grazie francesca in realtà c'era una domanda sui talchi e tu hai già risposto di fatto sull'utilità o meno delle dei servizi che ci permettono di fare conversazione con insegnanti delle lingue che stiamo studiando io aggiungo ai post tutta la serie di di quelli della bbc che sono 6 minuti english 6 minuti grammar sono veramente preziosi the english we speak con un sacco di espressioni idiomatiche io li trovo davvero tanto utili sì assolutamente in realtà proprio sul sito anche della bbc per chi si occupa di inglese ma credo che ci siano delle sezioni anche in altre lingue ci sono proprio delle sezioni dedicate all'apprendimento per cui ci sono tantissime risorse proprio per l'ascolto per il la comprensione scritta anche suddivise per livello quindi sono fatti veramente molto bene e poi io spezzo anche una lancia rispetto a non vergognarsi cioè io ho conosciuto in questi anni tante persone straniere che vivono in italia e che continuano a parlare italiano dopo vent'anni con un accento veramente buffo chi se ne frega se io quando parlo inglese non ho proprio l'accento di oxford insomma assolutamente mi avrà comunque apprezzato le volte chiedo per il mio inglese cioè sento delle risposte tipo ma se io sapessi parlare il francese come tu sai parlare l'inglese ecco ma dobbiamo infatti sempre ricordarci un po qual è l'obiettivo cioè appunto se dobbiamo arrivare a delle alte cariche internazionali è chiaro che il nostro sforzo dovrà essere maggiore ma se dobbiamo comunicare pazienza agli errori li facciamo anche in italiano e ovviamente non c'è gli errori o la pronuncia insomma esatto sì anche perché poi in inglese soprattutto ci sono tantissime varietà di inglese quindi che lo parli un britannico che lo parli un americano un australiano senza passare poi per tutto la fascia asiatica ci sono veramente dei mondi inesplorati e ampi ampissimi per cui insomma concentriamoci su quella che può essere il nostro paese col quale dobbiamo comunicare e concentriamoci su quella pronuncia particolare senza dover impararle tutte e poi insomma va bene comunque quando non capiamo chiediamo anche alle persone di parlare più lentamente si può fare si può fare non c'è nulla anzi grazie mille francesca grazie a voi